La vecchia legge, io credo il canto, mai una A, ma mettere la A sulla posizione della U. Solo con il movimento, con l'apertura della bocca, cambiare la vocale, ma rimanere sempre sulla posizione della U, mai una E, mai una I. Passare sempre, è la vecchia regola dei castrati, loro passavano sempre dalla U, una cosa personalissima naturalmente, però per spiattare bene la voce, è un buonissimo esercizio, è per esempio fare prima bocca chiusa, quello che ho imparato da Celetti, che è un grande conoscitore, e vi faccio vedere, forse vi sarà utile. Solo con l'apertura della bocca, non cambiare la resonanza e la posizione, questa è una vecchia regola.